In occasione della giornata della lotta alla mafia, a Bolzano una serie di associazioni e organizzazioni ha organizzato una giornata ricca di iniziative per dire no a tutte le mafie. Ospite d'eccezione, Giancarlo Caselli, che ha incontrato gli studenti delle scuole superiori al Teatro Cristallo. Già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Caselli ha dialogato sul palco con il magistrato Trentino Pasquale Profiti e con i giovani, raccontando la sua storia e il suo lavoro in prima linea nella lotta contro la mafia e invitando tutti a dire no al silenzio, all'omertà. No al silenzio, il silenzio aiuta i poteri illegali che sono forti non soltanto per la loro organizzazione, ma anche per ciò che è fuori dall'organizzazione, i silenzi, le omissioni, i ritardi, le sottovalutazioni, le strizzatine d'occhio, fino alle complicità, alle alleanze, all'intreccio di interessi, agli affari torbidi che molte volte qualcuno che dovrebbe essere dalla parte della legalità fa con l'illegalità. La mattinata è poi proseguita con uno spettacolo teatrale e di seguito il corteo che ha percorso le strade della città fino a largo Falcone Borsellino nella zona del Tribunale. Iverio Piccini